La porta aerei Kuznetsov è la prima a partire. Come previsto, la Russia comincia ad alleggerire il proprio dispositivo militare in Siria. Impegnata direttamente nel conflitto dal 2015, Mosca ha modificato un copione forse già scritto che prevedeva il crollo del regime di Assad. Il portavoce dell'esercito russo, Valeriy Gerasimov. Concordemente con la decisione del comandante in capo supremo Vladimir Putin, il ministero della difesa russo ha cominciato a ridurre il dispositivo militare in Siria. Le navi da guerra della flotta del nord, condotta dalla porta aerei ammiraglio Kuznetsov, saranno le prime a lasciare la zona del conflitto. Dopo la totale riconquista di Aleppo, annunciando il 29 dicembre un accordo appoggiato anche dalla Turchia su un cessate il fuoco e prossimi colloqui di pace ad Astana in Kazakhstan, Putin aveva detto anche che la presenza militare russa si sarebbe ridotta.